Quindi nel contesto di un torneo bello, ben organizzato, perfettamente riuscito, di una bella partita. È giusto sottolineare, come ha fatto Gabriele, l'ottimo arbitraggio che si va a inserire perfettamente in questo contesto. Bergamo in attacco per questi ultimi dieci minuti, Patroni da tre punti, sbaglia il rimbalzo, è controllato però da Foresti, che quando entra al campo dà una marcia in più al suo quintetto, ora cerca l'arbitrazione del lato sinistro, ovviamente gliel'ho gufata, e perde subito palla Foresti, Todeschino prova la penetrazione, si arresta, ottimo controllo del corpo, poi Epis a leggere bene la situazione, a recuperare questo pallone, dà tre punti il tiro di Zanellato che non va a segno, poi Foresti dà tre punti, sbaglia anche lui, poi recupera il rimbalzo Epis che subisce fallo da un giocatore di Casale nella fattispecie Nagari. Ricordiamoci che Zanellato numero sei e Capelli numero dieci sono due ragazzi di classe 2000, che in questa partita ma anche nelle altre hanno disputato momenti di grande personalità, di grande faccia tosta, in questa fascia di età qui un anno in meno può fare la differenza, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista di maturazione, e quindi un bravo anche a loro che hanno saputo tenere testa ai loro avversari più grandi. Epis sbaglia il primo libro, sbaglia anche il secondo, ribassa il catturato da Gioda che ovviamente è tornato in campo, purtroppo invece non è tornato in campo Valentini cui infortunio probabilmente gli impedirà di prendere parte a questi ultimi nove minuti della finale, tiro un po' avventato di Nicoria, ma sapeva che c'era Gioda lì da quelle parti, rimbasso offensivo, diciassettesimo punto per Gioda, miglior realizzatore del torneo, riceverà alla fine di questa partita anche il meritato premio, tiro anzi stoppata subita da Capelli, Todeschino, Todeschino, pedazione, fallo subito da Todeschino, Casale è tornata a mettere pressione a Bergamo che aveva portato il vantaggio a tre punti con quella serie di canestri, il tripola di Foresti e il canestro di Patroni, ma ora si è un po' seduta nuovamente la squadra di Mostosi e Todeschino ha detto ora ci penso io ragazzi, vi riporto in vantaggio. Sbaglia il primo libero Todeschino, ne ha un secondo, 8 e 38 alla fine, 53 per Bergamo, 52 per Casale, Todeschino sbaglia il libero e riprende anche il suo rimbalzo, errore piuttosto grossolano per la difesa orobica che non ha tagliato fuori il tiratore, Todeschino sempre lui, è ritardo il campo anche Bonalumi, Todeschino però forse stanco, il tiro è corto, rimbalzo non è controllato da Casale, il rischio Gabriele che passi tutto troppo dalle mani di Todeschino per Casale. Sì e Bergamo sta giocando molto in difesa su queste cose, sia con il raddoppio tutto campo ma anche ogni volta che un giocatore di Casale prova la penetrazione, anche il giocatore che dovrebbe stare di anticipo sul suo lato salta verso la palla e cerca di sporcare il palleggio, proprio per questa scarsa capacità da Casale di costruire azioni di passaggio preferendo azioni di penetra e scarica. Ora vediamo che Valentini è tornato in campo ma zoppica vistosamente, non sappiamo, coraggio ammirevole quello del giocatore piemontese, Celeri va a tirare, sbaglia da sotto, va a riprendersi anche l'imbalzo strappandole dalle mani di Gioda, non da un nano quindi, Epis, Foresti, Foresti si prende il tiro da tre punti e Foresti lo mette dentro un altro e la sua seconda bomba quasi consecutiva, 56-52 massimo vantaggio per Bergamo, fallo di Foresti su Nicoria. Nicoria rimessa per Todeschino marcato da Manolumi, bellissimo duello, poi la palla arriva a Valentini che gioca praticamente da fermo, tira sulla gamba sola e fa canestro, veramente un canestro che voglio sottolineare per il collaggio con cui Valentini, pur zoppo perché si vede che è limitato molto nei movimenti soprattutto laterali, mette dentro Epis, tiro da tre punti, sbagliatissimo, rimasto incontrollato da Bergamo, veramente Casale ci tiene a vincere questa partita e soprattutto Valentini a tornare in campo zoppo. Vorrei allenare giocatori come Valentini, come anche lo stesso Foresti, ragazzi piccoli ma già con una gran faccia tosta che quando la partita è in difficoltà o non ha un'inerzia precisa mettono la loro impronta e hanno anche il coraggio di parlare con i compagni, di confrontarsi con i loro allenatori, di mettere grande personalità. 56-58 per Bergamo, un fallo commesso da Foresti su Valentini, sicuramente l'obiettivo di Bergamo è pressare Valentini che sembra un po' limitato nei movimenti laterali ma in queste circostanze sarà ben liberato della marcatura di Foresti, non è sicuramente al 100% ma la sua presenza anche mentalmente per i compagni è importante. Gioda, Gioda perde palla, perde palla, poi la riconquista, grande spirito battagliero di Gioda che viene premiato dalla regola, a mio parere assurda, chiuso virgolette, del possesso alternato della famosa Freccia, quindi rimessa per Casale con Tudeschino, riceve da Valentini, ottimo anticipo di Bonalumi, occhiali e fascia, grande faccia tosta, Gioda gioca lontanissimo da canestro stavolta, Nicoria, penetrazione, fallo di Bonalumi che si accusa prontamente del fallo. Un'altra cosa mi piace sottolineare, nella isteria collettiva che prende categorie di livello superiore, ogni giocatore che commette fallo, che viene accusato di un fallo dall'abito, se ne accusa prontamente. Questa è educazione sportiva, Gabriele. Vero, e le volte in cui, soprattutto Valentini, che è quello che mi sembra più dedito alle proteste, alla chiacchiera in campo, c'è un episodio di contestazione, c'è sempre molta civiltà, molta educazione nel parlare con gli arbitri, i quali sono lì anche per educare, per insegnare le regole a questi giovani, c'è un confronto sereno, anche a volte acceso, ma sempre molto educato. Merito anche degli allenatori, che sicuramente avranno premuto su questo tasto, Nicoria, Nicoria, penetrazione, pala persa, c'è il solito Celeri, a recuperare il pallone, fallo subito da Celeri, giocatore di una importanza fondamentale dell'unico di gioco di Bergamo. sei minuti e quindici, in questa finale è uscito Nicoria, è entrato Poletti, vediamo cosa sarà in grado di fare, bel duello fra Poletti e Foresta, Celeri, Bonalumi, Epis, Foresti, avrebbe spazio per tirare, ma decide di giocare, cerca un compagno libero e trova Celeri, Celeri, penetrazione, centrale, cambia mano, sinistra, passo a tiro, gran palla per il numero 16 Patroni, che sbaglia, bella azione comunque di Celeri, Valentini già dall'altra parte, aia, casca male, scusate l'imprecazione, Celeri, Valentini sbaglia il tiro, rimasto in attacco di Casale, Gioda, Gioda subisce fallo, non fischiato, sbaglia il tiro, Celeri, accena una protesta a Gioda, Bonalumi già dall'altra parte, e Bonalumi mette a segno il suo ottavo punto, tecnico a Gioda, stavamo appena elogiando i giocatori, ah scusate, tecnico all'allenatore di Casale, stavamo appena elogiando i giocatori in campo, per la correttezza, e arriva Casalone, a smentirci immediatamente, probabilmente, l'allenatore di Casale ha visto qualcosa che non li tornava, l'arbitro, però ha, alla prima protesta, dato tecnico. E in teoria ci dovrebbe essere un richiamo, prima del tecnico, Edoardo Casalone, coach classe 89, non scordiamoselo mai, grande lucidità fino a questo momento, sul meno 6, in una partita a punteggio basso, mi rendo conto che la pressione sale, può scappare una protesta di troppo, può pagarlo caro, perché adesso con questo tiro libero, la sua squadra va a meno 7, può andare a meno 8, addirittura a meno 10, meno 11, in una partita a basso punteggio così, può essere un errore decisivo, staremo a vedere, in ogni caso, mi sento di elogiare, la bravura di coach Casalone, che ho avuto in questi giorni, come confronto quotidiano, e devo dire che è un allenatore che farà molta strada. Bonalumi, due su due liberi, un altro che farà molta strada, se non si perde per strada, Epis, commette fall, scusate, infrazione di passi, per Epis, 62 a 54, per Bergamo, che ha preso un margine di vantaggio notevole, e considerando la partita a basso punteggio, come giustamente sottolineava a coach Gabriele Grazzini, potrebbe essere un vantaggio quasi incommabile, a meno Chito Deschino, non decide di mettersi in proprio, sbaglia il tiro, ma c'è Poletti, pugnetto alzato, rimbasso offensivo, e il canestro, il suo decimo punto, porta a meno 6, i suoi compagni, errore dall'altra parte di Bergamo, Valentini, l'uomo era rimbasso, attenzione perché la partita a 4 e 50, e tuttanto che è finita, soprattutto proprio questa, tripla di Valentini, dodicesimo punto per Valentini, due tripli consecutive per Valentini, e il punteggio, che secondo me, vanno segnati tre punti a Casale, 62 a 56, mi sembra che, no, probabilmente il vantaggio di Bergamo era di, no, vediamo ecco, infatti ci sono i genitori dei tifosi, dei ragazzi di Casale, ecco, punteggio esatto, 62 a 59, passale di 6 a 0, a favore di, eh, Casale, e questa partita Gabriele, ancora una volta, non si può dire mai la parola alla fine, soprattutto perché sono ragazzi, che fino all'ultimo momento, fino all'ultimo secondo, lottano. Assolutamente, eh, basta poco per cambiare l'inerzia di una partita, under 14, a maggior ragione, con, sia da parte di Casale, ma anche da parte di Bergamo, coinvolti i ragazzi, dalla, dall'estro, eh, dalla, dalla, dal talento individuale, dall'ecletticità, tale da poter, con una giocata, accendere la propria squadra. E a prescindere da queste due squadre, che si stanno giocando la finale, c'è un altro giocatore, delle altre sei squadre, che hai visto in questi due giorni di gara, che ti ha impressionato? Ce ne sono diversi, soprattutto pescando da, da settore Montefaschi, che si è presentata al torneo, con, con ben sei prestiti, ci sono, la cosa che mi ha colpito, è notare, eh, tanti giocatori, in percentuale alti, grossi, ma con buone qualità di palleggio, eh, buone, buonissime qualità di passaggio, alcuni con tiro, veramente da costruire, ma, eh, con un atteggiamento alla, alla Gallinari, per intenderci, o alla, o alla Barniani, e questo è una cosa che a me piace, perché, il giocatore completo, è il giocatore, che ha, che ha futuro, fondamentalmente. Torniamo in cronaca, quattro minuti e mezzo, alla fine di questa finale, quarta edizione della LUDEC Cup, con Bergamo, che attacca a tre punti di vantaggio, Celeri, passo tiro, scarica, per Foresti, che non ha lo spazio, per tirare da tre punti, allora va in predazione, e scarica per Pinotti, che sbaglia un tiro da sotto, e fa una doppia, un doppio errore, perché dopo il tiro, va a commettere anche fallo, Bergamo è anche in bonus, e quindi, Casale ha un'altra occasione, per avvicinarsi, con Gioda, Pinotti, Mohan Singh Pinotti, anche lui, cognome italiano, ma chiarissime estrazioni, chiarissima derivazione, del sud-est asiatico, perlomeno, guardando, la conformità, del ragazzo, Gioda, intanto, se ne frega, delle nostre, recuperazioni geografiche, realizza il, primo libero, riporta, Casale a, meno due, sbaglia secondo, rimbazza in attacco, per Todeschino, che subisce fallo, e Andronetta, con due tiri liberi, Casale è tornata, prontissimamente in partita, se si può dire, prontissimamente, dopo che Bergamo, aveva, eh, guadagnato, le più nove, complice, il tecnico, alla panchina, di Casale, ora Todeschino, può riportare la partita, in parità, però, sbaglia il primo libero, un secondo libero per lui, realizza il secondo, presente in tribuna, anche, tanti allenatori della zona, vado da, insieme a vedere, Stefano Tomei, Sandro Zucconi, allenatori che, hanno fatto la storia, perlomeno in Val di Nievole, visto che si, ci troviamo in Val di Nievole, credo sia, giusto sottolinearlo, Pinotti, per Foresti, poi Epis, da tre punti, ci provano Lumi, lui si chiacoraggio, lo sbaglia, rimbalzo importante, l'attacco di Pinotti, e c'è il fallo, commesso da Valentini, Casale, con questo fallo, sale in bonus, quindi, da ora in poi, ogni fallo, se andrà in lunetta, rientra in campo, Patroni, per Bergamo, riesce Pinotti, per Casale, esce Valentini, che probabilmente, non ce la fa più, rientra il numero 12, Nagari, rimessa per Casale, per, scusate, per Bergamo, tre minuti e 47, un punto di vantaggio, perché attacca, gran palla dentro, per Patroni, che non la controlla, palla due, palla per Bergamo, per la regola del, possesso alternato, si incarica, della rimessa a Foresti, esce da un blocco Patroni, però si libera Nagari, 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 uno contro uno, passo tiro, passi, inflazione dei passi, una infrazione, che gli arbitri, tendono a fischare moltissimo, da questa stagione, soprattutto, nelle categorie superiori, cioè, ormai, il passo di incrocio, dopo aver arrestato, il palleggio, non è più ammesso, Gabriele. Non voglio entrare, in queste discussioni, perché io sono un amante, del passo e tiro, in tutte le sue forme, intanto, triplicato, il nostro amico Gioda, dopo un rimbalzo, scaturito, dal suo stesso tiro, adesso, siamo a tre minuti e trenta, e il proteggio, è distante di un punto, fra le due squadre, piano piano, sta finendo la musica, e dobbiamo ancora capire, chi rimarrà, col cerino in mano, una partita che sembrava, sui binari di Bergamo, invece Casale, anche grazie al cuore di Valentini, sta, ha ripreso in mano, adesso, probabilmente, vedremo un sacco di azioni confuse, dove avrà la meglio, chi avrà i nervi più saldi, sia in campo, che sulle panchine. e sottolineo anche, precisione ai tiri liberi, perché le due squadre, sono entrambi in bonus, quindi ci sarà una caterva, di tiri liberi, da qui alla fine, tanti falli, dati anche dalla stanchezza, Gioda, sbaglia il primo libro, ne ha un secondo, e pareggia la partita, a quota 62, sono 18 punti di Gioda, miglior realizzatore della partita, Foresti, tre minuti e venti, Foresti, palleggio, poi Patroni, serve Epis, da fuori, con coraggio, sbaglia, rimbalzo di Gioda, però non c'era nessuna rimbalzo, per Casale, per Bergamo, Nagari, Todeschino, va dentro, il resto, tiro di Todeschino, sbaglia, rimbalzo di Bonalumi, Bonalumi, serve, Celeri, cerca di battere le prove versano contro uno, Bonalumi, ci prova lui, scarica per Epis, poi Patroni, da tre punti, sbaglia, rimbalzo di controllato, da Todeschino, che prima di arrivare sul pallone, due minuti e 44 alla fine, 62 pari, Todeschino, gran palla, gran palla, backdoor, ben fatto, da Salvaneschi, finta di andare verso l'esterno, e taglio verso canestro, bravo a eseguirlo Salvaneschi, molto bravo Todeschino, a dargli il pallone con i tempi giusti, vantaggio casale, Foresti, per Bonalumi, Bonalumi, per l'azione, fallo, subito, da Bonalumi, che se non si mette in proprio, credo per Bergamo, si faccia veramente difficile, lui e Celeri, sono i giocatori, probabilmente con più benzina, e anche con più faccia tosta, per penetrare nel cuore dell'area, e attirare gli scarichi, o addirittura, semplicemente provare una conclusione, contro gli aiuti, gli altri, nelle ultime azioni, si sono affidati un po' al tiro da fuori, da un certo punto di vista, con coraggio, ma dall'altro, anche rifiutando, di prendere qualche botta, avvicinandosi a canestro, dall'altra parte, prima abbiamo visto Todeschino, che ha nel passaggio, una delle sue caratteristiche migliori, abbiamo visto il backdoor, che ha servito, ma anche quando in contropiede, oppure a metà scampo, deve servire passaggi corti, sulle sue proprie penetrazioni, ha veramente un'ottima capacità in questo. Nel frattempo, azione portata di Patroni, che ha preso l'imbazzo, dopo l'errore di Bonalumi al libero, e ha realizzato il suo dodicesimo punto, Bergamo più uno, ora, servizio volante, per Salvaneschi, Salvaneschi, che non riesce a mettere a segno il canestro, palla recuperata da Epis, vediamo cosa fiscano gli arbitri, ero coperto dai giocatori, non ho visto, che dopo ha fiscato passi a Epis, fisco un po' strano, perché Epis forse non aveva il possesso pieno del pallone, comunque, un minuto e cinquanta, Gioda, Gioda marcato da Epis, si guadagna spazio, però sbaglia da sotto, va a prendere l'imbalzo, e va a realizzare il suo ventesimo punto, Gioda, fattore determinante, dentro l'area colorata, un minuto e trentacinque, più uno Casale, Bergamo in attacco con Foresti, Foresti per Patroni, Patroni, palla difficile per Epis, palla persa da Patroni, Todeschino, Todeschino, un minuto e venti, Todeschino, Todeschino per Gioda, Gioda ha spazio per attaccare uno contro uno, lo fa, si arresta, tira, realizza, Gioda, sono 22 per lui, due canessi consecutivi di Gioda, Gabriele, che sembrano portare, e sottolineo, sembrano portare la partita alle parti di Casano. Sembra un po' la fotocopia della partita, ieri con Montepaschi, Montepaschi ha un giocatore, di cui non ricordo, onestamente il nome, ma il numero 16, e si sono battagliati lui e Gioda, per tutta la partita, andando avanti con Gioda, che prendeva possesso dell'area, e il suo avversario attaccandolo anche dal palleggio, se fosse fermata la partita al terzo quarto, ti avrei detto, vince Siena, con questo ragazzo a dominare, e invece nel finale di partita, Gioda ha dimostrato, di avere faccia tosta, coraggio e capacità, per segnare i canestri che contavano veramente, e infatti in finale è andata Casale, che adesso sta giocando di nuovo una partita punto a punto. Pronto time out, chiamato da coach, mostosi per Bergamo, perché il 4-0 di mini break, siglato da Gioda, ha messo la partita un po' nelle mani di Casale, con 74 secondi da giocare, un minuto e 14 tradotto, questo attacco di Bergamo diventa fondamentale, Celleri subra la vita a campo, prova l'uno contro uno, si arresta, Bonalumi, avrei scommesso che tirava, invece non tira, Celleri per ed azione, scarica per Epis, c'è un fallo, fischiato dalla difesa di Casale, credo l'abbia commesso il nostro amico Poletti, liberi per Celleri, un minuto esatto alla fine, 60 secondi alla fine di questo torneo, avvincente, ben organizzato, 8 fra le migliori squadre, 14 d'Italia, Celleri realizza il primo libero, sono 14 per lui, sono 4 giocatori in doppia cifra, per Bergamo, una costante in questo torneo, 15 per Celleri, a onore del vero, 4 in doppia cifra, giocatori anche per Casale, palla persa ora, però è Casale, però la riconquista Poletti, serve Gioda, che sbaglia da sotto, e poi per recuperare il rimbalzo, Celleri, forse ce la fallo, 44,